Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi dell'iPad Pro quarta generazione da 12,9 pollici di display wifi 256GB di memoria che ho acquistato su Amazon ad un costo di 1229€. Una cifra molto alta, lo posso capire, ma posso assicurarvi che vale fino all'ultimo centesimo speso per l'acquisto. Ora, io sono un videogiocatore, ho un PC da gaming, ho tutte le piattaforme di gioco, ho un Galaxy Note 10+, ed ero alla ricerca di un tablet per il gaming. E quando intendo gaming non parlo di Angry Birds, ma parlo di Call of Duty Mobile, Fortnite, emulatori vari, di titoli un po' più, un po', diciamo un bel po' più pesanti. La volta scorsa vi ho parlato del MediaPad, un tablet che non è male di per sé, ma è economico, e come ogni dispositivo economico non c'è da aspettarsi grandi cose. Quindi diciamo, gli emulatori funzionavano i classici, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, ma quando si andava su GameCube o Wii vi erano problemi. E Call of Duty Mobile, Fortnite e quant'altri erano riproducibili a dettagli bassi. Alcuni giochi ti davano la possibilità di scegliere più frame o più grafica, ma era un disastro avere entrambi. Il tablet in questione, ossia l'iPad Pro di quarta generazione, è uno spettacolo. Uno spettacolo per il gaming. Ora, è vero che ha una fotocamera bellissima, ma io non acquisto un tablet per la fotocamera, ma per il gaming. Personalmente io. Perché poi, quando si acquista un tablet, naturalmente, c'è un'esigenza diversa. C'è chi magari vuole un tablet per navigare, o vedere Disney+, Netflix, c'è chi vuole utilizzarlo per lavoro e chi, come me, vuole utilizzarlo per il gaming. Cioè, io voglio poter giocare liberamente a Call of Duty, ad esempio, con dettagli al massimo, come potete vedere, senza problemi di cali di frame. Cioè, io posso giocare tranquillamente, abbasso il volume perché è alto, al massimo dettaglio. Infatti, se io vado nelle impostazioni e vado su grafica. Guardate un po', ragazzi, molto alto, molto alto. Sia per i frame, sia per la grafica. E posso attivare tutto e il gioco rimane fluido. È davvero qualcosa di bellissimo. Fortnite pure fa la sua bellissima figura e così tutti gli altri titoli, che siano giochetti presenti sull'Apple Arcade, scusate, la piattaforma di Apple che è gratis 30 giorni e poi ha un costo di 5€ al mese, oppure i giochi classici presenti sullo store. Anche gli emulatori funzionano perfettamente. Non sono qui a parlarvi di NES, SNES, Nintendo 64, perché quelli girano bene anche su un Raspberry. Ma Wii e GameCube girano perfettamente. Non bene, perfettamente. Ho sincronizzato un controller Xbox One via Bluetooth e adesso vi do ovviamente la dimostrazione che i giochi vanno una bellezza. Allora, partiamo da un'esclusiva temporanea dell'Apple Arcade, ossia la piattaforma di Apple. Se lo trovo, eccolo qua, no? Ocean Horn 2, eccolo qua, l'ho trovato. Questo titolo diciamo che è disponibile da molto tempo sull'Apple Arcade e arriverà anche su PC e console prossimamente. È qualcosa di fantastico. Io ho avuto modo di giochicchiarlo un po' e vi posso dire, ragazzi, che graficamente e come gameplay è superlativo. Cioè è fluidissimo, bellissimo da vedere, è fantastico. Poi supporta il Game Center, che sarebbe tipo il Play Giochi di Google, dove ci sono gli obiettivi, salvataggi sul cloud, eccetera. Adesso avvicino il tablet per mostrarvi la grafica. Non so se rende l'idea, ma vi posso assicurare che è bellissimo ed è visionabile perfettamente da qualsiasi angolo. Quindi è davvero, davvero fantastico. Fluido, sto giocando con il controller Xbox, non c'è il trucco, non c'è inganno. E così tutti gli altri giochi della piattaforma Apple. Naturalmente potete giocare anche con il touch, non siete obbligati ad utilizzare un controller. Per quanto riguarda invece gli emulatori, ovviamente, a differenza di Android, Apple e contro gli emulatori. Per questo, se andate sull'App Store, Apple Store o com'è il negozio insomma delle applicazioni, non trovate gli emulatori. E non potete installarli normalmente, perché dovete sbloccare l'iPad con il jailbreak. Una volta che avete sbloccato l'iPad con il jailbreak ed è un jailbreak volatile, cioè accendete il tablet originale, sbloccate e al riavvio diventa modificato, avete la possibilità di lanciare tutti gli emulatori che volete, a differenza della Dreamcast che purtroppo non funziona bene. Però quella è una questione diversa, non dipende dalle prestazioni diciamo dell'iPad, ma dalla programmazione. Purtroppo però l'emulatore del Dreamcast, almeno su iPad, è stato diciamo abbandonato da tempo. Invece il Delphin che permette di far partire giochi Wii e Gamecube, scusate, funziona veramente bene. Adesso vi do una dimostrazione con Mario Galaxy. Come vedete sia in fluidità che in audio è davvero... cioè perfetto. Sto giocando sempre con il controller Xbox. Guardate, adesso vi mostro da vicino la cosa. Io non ho toccato nulla, non è che magari ho smanettato sulle impostazioni. Non ho toccato nulla, si vede bene, si sente bene e funziona perfetto. Sia questo che il gioco per Gamecube. Questo è per Wii, quindi adesso vi mostro ovviamente Mario Sunshine per Gamecube. In questo modo vi do la possibilità di vedere da voi il funzionamento anche dei giochi Gamecube. Mario Sunshine. Ok. Carico la partita, dovrei averla. No, non ce l'ho. Vabbè, comunque vi fate un'idea già dal menu principale. Cioè, grazie praticamente a questo gioiello potete giocare tutto. Giochi NES, NES, Nintendo 64, PlayStation 1, Gamecube, Wii. C'è anche un emulatore PlayStation 2, ma non funziona molto bene con alcuni titoli. È normale perché è ancora in fase di sviluppo. Purtroppo, come vi dicevo, l'emulatore della Dreamcast è stato abbandonato ed è un peccato perché gira, diciamo, bene ma ha bisogno di alcune rettifiche perché o va troppo veloce senza audio o va bene l'audio ma poi scatta. Insomma, non è una questione ovviamente di prestazioni del tablet perché il tablet è fantastico e fenomenale in tutto. Avete quindi la possibilità, grazie a questo gioiello di giocare a tutto. Hai titoli Apple Arcade, i titoli classici, gli emulatori, in streaming con i giochi Steam, con Stadia. Non è ancora presente purtroppo la possibilità di giocare con i titoli Xbox tramite la piattaforma di Microsoft, ma in sostanza è veramente, a mio avviso, e ve lo dice uno che non va pazzo per i prodotti Apple, il re dei tablet per il gaming. Potete usarlo per navigare, lavorare, giocare, potete farci di tutto, è velocissimo, potete aprire tantissime applicazioni per poi ritrovarvele tranquillamente così e ha un task manager velocissimo, come vedete posso chiudere e aprire le applicazioni velocemente. Se siete alla ricerca di un tablet per il gaming sicuramente l'iPad di quarta generazione fa il caso vostro, perché vi permette di giocare vecchi e nuovi titoli, titoli esclusivi, tutto in maniera perfetta e con il controller Xbox One. Quindi diventa una vera e propria console portatile e la qualità dei giochi Apple Arcade, come avete visto, è davvero fenomenale, fantastica. Ci sono titoli esclusivi tipo Frogger, Pac-Man Party e titoli diciamo che sono presenti anche sulle altre piattaforme, come ad esempio Sonic Racing, ma i titoli diciamo sono perfetti. Questa recensione era rivolta più che altro al lato gaming, perché non voglio parlare di fotocamere, processore, RAM e bla bla ma voglio focalizzarmi sul gaming, perché poi è questo il fulcro del canale, l'argomento principale del canale, il gaming. Quindi la domanda è se acquisto questo iPad posso giocarci come si deve? La risposta l'avete vista già voi, assolutamente sì. Funziona che è una meraviglia, come vedete ragazzi. Il comparto grafico c'è, la fluidità c'è, il sonoro c'è, perché se aumento il volume al massimo non si sente la mia voce e adesso ve lo faccio sentire. insomma ragazzi, se avete 1300 euro da spendere o qualcosa in meno perché ci sono varie versioni e modelli, io vi consiglio di acquistarlo, perché è fenomenale. Per il gaming non c'è niente attualmente sul mercato di meglio dell'iPad Pro di quarta generazione. Vi permette di giocare agli emulatori, vi permette di giocare ai titoli moderni, vi permette di giocare a tutto. Ora, successivamente nei prossimi video vi farò la guida su come ad esempio fare il jailbreak provvisorio, di come installare gli emulatori, avviare i vari emulatori eccetera eccetera. Se diciamo siete interessati a questi tutorial potete tranquillamente lasciare un commento qui sotto e provvederò come sempre a realizzare delle guide dove vi spiego tutto, quindi anche come giocare i titoli Wii Gamecube sul vostro iPad. Che dire, è un prodotto assolutamente consigliato se avete denaro da spendere e siete alla ricerca di un tablet per il gaming come si deve. Se siete interessati all'acquisto ve la leggo nella descrizione di questo video, il link Amazon insieme al link per acquistare questa comoda custodia in silicone che oltre a lasciare gli spazi dove ci sono gli speaker e attacchi vari, ha la pressione dei tasti molto molto morbida. Quindi diciamo avete modo di premere i tasti tranquillamente e senza problemi. Se questo video vi è piaciuto, vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Touch Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.